Posso dire di star zitti? Stai in urlo Ricordiamoci sempre di fare attenzione che la saliva non deve mai andare a contatto con il prodotto quindi non assaggiamo con il cucchiaio Quindi metteremo delle uova E come vedete è come una ricordata cotta al suo cestello Vedete con quale semplicità riusciremo a preparare questo piatto Si parla del mondo della decorazione e della presentazione dei piatti oppure anche della presentazione di un buffet non abbiamo messo salere Non facciamo altro che prendere la nostra crema Aspetta Mi rompiamo quando dico nostra Non facciamo altro che prendere la crema inglese Usufruiremo di un anello d'acciaio per fare il centro e adesso prendiamo la nostra l'anello d'acciaio per fare un'alzata al centro con le fragole e adesso prendiamo la pasta frolla con la crema come vedete come vedete è una ricotta ha il suo cestello come la classica ricotta e la facciamo anche per metterlo nella ciotola e poi lavorarlo e adesso prendiamo la crema inglese inserire nel forno e andiamo ad inserire nel forno la nostra foglia a questo punto poniamo in frigorifero per un'altra metà ora adesso vediamo per questo perché posso fare l'inclinazione adoperiamo una bull e andremo in macchina fermati prendiamo una vaschettina da poter inclinare il nostro vaso e lo andiamo a mettere nella macchina questo lo taglio lui porterà tutte queste innovazioni e collaborerà con gli uniti lui lavorerà per la record food e porterà tutte queste innovazioni in america lavorerà e porterà questi e andrà a trasmetterli nell'unione stati uniti d'america e li porterà in america a federico auguro a te e all'equipe che organizzerai insieme a giovanni prioriello un altro nostro carissimo collega e amico che invece opera nella sud d'america con giovanni prioriello che invece opera nel nord america e precisamente in canada loro saranno le due braccia stese dalla record food e trip e portare tutte queste innovazioni in america il corso è cambiarla questa grazie a tutti